68 gradi festival di Sanremo, duetti in gara e vincitore nuove proposte. Quarta puntata del festival di Sanremo in onda su Rai 1 ieri sera 9 febbraio. Ieri sera, 9 febbraio è andata in onda su Rai 1 la quarta puntata della 68 gradi edizione di Sanremo. I presentatori della kermesse erano Claudio Baglioni direttore artistico, Michel Unzich e relatore Pierfrancesco Fabino. Durante la serata i primi ad esibirsi sono state le otto nuove proposte, tra loro il vincitore. Leonardo Monteiro Bianco. Mirko e il cane stiamo tutti bene. Alice Caioli specchi rotti. Ultimo il ballo delle incertezze. Giulia Casieri come stai? Mudimbi il mago. Eva Cosa di salverà. Lorenzo Baglioni il congiuntivo. Il primo classificato della categoria nuove proposte è stato ultimo con il ballo, il secondo Mirko e il cane, vincitore del premio della critica Mia Martini, e il terzo Mudimbi con il mago. La serata è continuata con i duetti dei big e con gli ospiti ridotti per il numero elevato delle esibizioni. I pochi intervenuti sul palco della Riston sono stati, Gianna Nannini, che ha duettato con Baglioni Amore Bello, Federica Sciarelli conduttrice di chi l'ha visto e il Piero Pelu il rocker per eccellenza, che ha cantato con Baglioni Motocicletta. Nel corso della serata i duetti dei big, che si sono esibiti sono stati giudicati, Demoscopica al 50%, Stampa al 30% e Dagli Esperti al 20%. I duetti big in gara. I duetti dei big in gara ieri sera erano, Max Gazzarita Marco Tulli Roberto Gatti La leggenda di Cristalda e Pizzimunno, Luca Barbarossa Anna Foglietta Portame Ersale, Giovanni Caccamo Arisa Eterno. Ermal Meta e Fabrizio Moro Simone Cresticchi non mi hai fatto niente, Ron Alice almeno pensami, Ornella Vanoni Bungaro Pacifico Alessandro Preziosi impare ad amarsi, Diodatoro i paci Pokémon adesso. Le vibrazioni skin così sbagliato, Annalisa Michele Bravi il mondo prima di te, The Color Studio d'Episcopo Enrico Nigrotti Frida, Mai Mai Mai, Enzo Abitabile Beppe Servillo da Abitore il coraggio di ogni giorno, Red Canzia Marco Masini ognuno ha il suo racconto, Lo Stato Sociale il coro dell'Antoniano e Paolo Rossi una vita in vacanza, Decibele M e Digiure lettera del Duca. Robi Facchinetti e Riccardo Fogli Giussi Ferreri il segreto del tempo, Noemi Paola Turci non smettere mai di cercarmi, Renzo Urbino Serena Rossi custodire, Mario Biondi Ana Carolina Danielio Bia arrivederci rivederti, Elio e le storie tese neri per caso arrivederci, Nina Zilli Sergio Camariere senza appartenere. Stasera si decreterà il vincitore di questa 68 gradi edizione, chi sarà? Vedremo cosa succederà in questa lunga serata. 68 gradi festival di Sanremo, duetti in gara e vincitore nuove proposte. Quarta puntata del festival di Sanremo in onda su Rai 1 ieri sera 9 febbraio. Ieri sera, 9 febbraio è andata in onda su Rai 1 la quarta puntata della 68 gradi edizione di Sanremo. I presentatori della Kermesse erano Claudio Baglioni direttore artistico, Michel Unzich e relattore Pierfrancesco Fabino. Durante la serata i primi ad esibirsi sono state le otto nuove proposte, tra loro il vincitore. Leonardo Monteiro Bianca. Mirko e il cane stiamo tutti bene. Alice Caioli specchi rotti. Ultimo il ballo delle incertezze. Giulia Casieri come stai? Mudimbi il mago. È da cosa di salverà. Lorenzo Baglioni il congiuntivo. Il primo classificato della categoria nuove proposte è stato ultimo con il ballo, il secondo Mirko il cane, vincitore del premio della critica Mia Martini, e il terzo Mudimbi con il mago. La serata è continuata con i duetti dei Big e con gli ospiti ridotti per il numero elevato delle esibizioni. I pochi intervenuti sul palco dell'Aristo sono stati, Gianna Nannini, che ha duettato con Baglioni Amore Bello, Federica Sciarelli conduttrice di chi l'ha visto e il Piero Pelui il rocker per eccellenza, che ha cantato con Baglioni Motocicletta. Nel corso della serata i duetti dei Big che si sono esibiti sono stati giudicati, demoscopica al 50%, stampa al 30% e dagli esperti al 20%. I duetti Big in gara I duetti dei Big in gara ieri sera erano, Max Cazzarita, Marco Tulli, Roberto Gatti, La leggenda di Cristalda e Pizzi Muno, Luca Barbarossa, Anna Foglietta, Portame Ersale, Giovanni Caccamo Arisa Eterno, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Simone Cristicchi non mi hai fatto niente, Ron Alice almeno pensami, Ornella Vanoni, Bungaro Pacifico, Alessandro Preziosi impare ad amarsi, Diodato Roitaci e Pokémon adesso, le vibrazioni skin così sbagliato, Annalisa Michele Bravi il mondo prima di te, Te Color Studio Episcopo Enrico Nigrotti Frida, mai mai mai. Enzo Abitabile Beppe Servillo D'Abitore è il coraggio di ogni giorno, Red Canzia Marco Masini ognuno ha il suo racconto, Lo Stato Sociale il coro dell'Antoniano e Paolo Rossi una vita in vacanza, Decibele M i Digiure lettera del Duca, Robi Facchinetti e Riccardo Fogli Giussi Ferreri il segreto del tempo, Noemi Paola Turci non smettere mai di cercarmi. Renzo Rubino Serena Rossi Custodire, Mario Biondi Ana Carolina Danielio Bin Rivederti Rivederti, Elio e le storie tese neri per caso arrivedorci, Nina Zilli Sergio Camariere senza appartenere. Stasera si decreterà il vincitore di questa 68 gradi edizione, chi sarà? Vedremo cosa succederà in questa lunga serata. Grazie. Grazie a tutti.